C'è un cibo nostrano dal potere detox straordinario, sapete qual è? È il digiuno! Piaciuta la battuta! Sì, era buona, ma per fortuna era solo una battuta. Il cibo di cui parlo è il radicchio rosso dalle incredibili proprietà detox e antiossidanti. Pensate che è uno studio giapponese congiunto tra il College of Bioresources Sciences della Nihon University di Kanagawa e il National Institute of Health Sciences di Tokyo. Insomma, in Giappone hanno scoperto che il radicchio contiene oltre 12 tipi diversi di antociani antiossidanti. La ricerca è stata pubblicata nel 2002 su Phytochemistry e il link è in descrizione. Grazie a questi potenti antiossidanti, vitamine, minerali e fibre. Il radicchio rosso è perfetto per sgonfiare la pancia, pulire il colon e anche migliorare la digestione, oltre a saziare. È ricco di vitamina C, quindi sostiene anche il sistema immunitario. Il radicchio si può mangiare in tanti modi diversi. Io lo adoro anche crudo in insalata, lo faccio così. Radicchio rosso con pomodorini, carote grattugiate e mele gialle tagliate a cubetti. È buonissimo! Quello trevigiano a coste lunghe lo mangio in pinzimonio, in modo semplice, ma è uno dei miei antipasti preferiti. Con il radicchio si può preparare un ottimo risotto, oppure stufarlo in padella o farlo sulla griglia. È buonissimo anche sulla pizza o come verdura nei toast. Voi lo mangiate? E come lo cucinate? Scrivetemi le vostre ricettine qui nei commenti e le più interessanti diventeranno un video. Durante la settimana alternate ricette cotte a ricette crude, così sarà più facile fare detox, sgonfiare la pancia e depurare gli organi come il fegato e l'intestino. Se ami anche tu la salute naturale, metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao!